Dov'è che andiamo oggi? Oggi andiamo a Passo Giao dove lasceremo la macchina e saliremo la montagna per il lago Federa dove ci sarà un laghetto il rifugio Palmieri. Noi partiamo per il rifugio Palmieri sentiero 436. Stiamo per scollinare. Questi lestroni sono quelli del Monte Formil. Questa è la sepoltura mesolitica. Questo è il becco di Mezzodì, il crozo di Mezzodì. Scegliamo il rifugio Palmieri sentiero 434. Siamo quasi arrivati al rifugio Palmieri. Siamo quasi arrivati ho detto. Lo spettacolo è mozzafiato. Il paese che si vede in fondo dalla valle è Cortina. Siamo finalmente arrivati al rifugio Palmieri con il laghetto. qui è un paese. Se potrebbe fare anche dopo. Dice che ci abbiano invaso il pascolo. Guarda. Eh sì, sta guardando dove deve andare. Cioè mi hanno invaso il Pasqua, non posso andare a mangiare. Ricominciamo la salita di rientro. Ricominciamo la salita di rientro.